a casa sanremo writers 2024 è tornato a trovarci cristian cevoli ciao cristian e che bello rivederti grazie a voi per l'invito e anche per me bello rivederci noi ci siamo già conosciuti lo scorso anno lo scorso anno eri qui a casa sanremo writers con fidarsi di ogni emozione libro dedicato ad una vicenda di bullismo che ti riguardava direttamente anzi faccio raccontare qualcosa di più direttamente a cristian cristian che è originario di rimini ma vive a riccione come era nata quell'esperienza quel libro come era nato fidarsi di ogni emozione allora quel libro è nato nel periodo del lockdown dove nel momento in cui eravamo tutti chiusi in casa su diciamo sulla voglia di scrivere qualcosa mia moglie mia figlia mi hanno incitato a mettermi giù per poter raccontare qualcosa che mi potesse essere d'aiuto le persone ragazzi che magari hanno vissuto il mio stesso problema il mio stesso fenomeno del bullismo quindi mi sono messo a scrivere è nato questo libro che parla di bullismo non solo di bullismo ma anche di temi sociali come l'amore l'amicizia la fede ma quello che riguarda più che altro la sfera bullismo e sabbia bullismo e quindi l'ho vissuto sulla mia pelle ho voluto cercare di trasmetterlo scrivendo ai ragazzi delle scuole dello sport che possono essere d'aiuto il tuo passaggio lo scorso anno qui da casa sanremo writers possiamo dire che ti ha portato anche non dico fortuna ma diciamo dato slancio a quella che era la tua iniziativa no certo mi ha dato molto slancio mi ha aiutato a un percorso comunque importante che tuttora sto portando avanti quindi ringrazio casa sanremo ringrazio tutti quelle che hanno dato mi ha dato fiducia e ed è bello essere di nuovo qua per portare nuovamente la mia testimonianza anche a casa sanremo quest'anno tu sei qua con noi con il mio viaggio tra le emozioni che vuole essere anche proprio una maniera per ringraziare per salutare le persone che ti hanno incoraggiato e che ti hanno aiutato credo aver capito certo è una raccolta diciamo dove ho deciso di far capire le persone che mi hanno aiutato quindi sponsor amici coloro che hanno deciso di mettersi insieme a me in questo percorso con testimonianze foto di tutto quello che ho fatto in questi due anni con il mio primo libro fidarsi ad ogni emozione quindi ho voluto omaggiare gli amici e coloro che mi hanno aiutato in questo percorso che è un percorso che ti ha toccato abbiamo detto direttamente del quale adesso magari torniamo un pochino a chiacchierare innanzitutto il problema tuo con il bullismo ha riguardato quale periodo della tua vita diciamo che il periodo preadolino essenziale quindi quarta quinta elementare prima seconda media sono stati quattro anni più duri della mia vita scolastica ma anche della mia vita stessa e poi dopo pian piano dalla terza media in poi sono riuscito grazie allo sport e all'aiuto degli amici dei genitori a superarlo piano piano a sviluppare il mio carattere e dare un aiuto a me stesso per affrontare questo tema così delicato il tema del bullismo è diventato centrale negli ultimi anni se ne parla sicuramente molto di più una volta probabilmente era considerato quasi come inevitabile no quasi come se fosse anche voglio dire un passaggio obbligato all'interno della scuola tanto hai tanto crescino attraverso quell'esperienza ora forse finalmente le cose stanno cambiando sì io penso che come dici te le cose stanno cambiando perché finalmente anche nelle scuole capiscono che il questo tema non è un tema da sottovalutare ma anzi da far sì a far capire a tutti coloro che hanno avuto problemi di bullismo che è essenziale che anche le scuole diano una mano in questo in progetti con sensibilizzazione non solo nelle scuole ma anche nello sport io vedo anche che hanno sport e cominciano piano piano a far sì che questi progetti possano essere utili per rispettare tutti coloro che giocano e questo vale anche per la scuola quindi sono contento che a oggi piano piano stia prendendo sempre più slanzo questo questi progetti e che sono per me il pane e l'aiuto per andare avanti quando tu avevi questi problemi nessuno se ne accorgevi tuoi amici gli insegnanti a casa qualcuno sospettava qualcosa no all'inizio no perché comunque anche i miei amici ora che li conosco da più di 30 anni mi hanno detto io molti miei amiche mi hanno detto io non me l'aspettavo non me ne sono accorto che eri stato vittima se no ti avrei aiutato e io avevo solo un amico a cui mi confidavo e i miei genitori no all'inizio per un annetto i miei genitori non hanno mai saputo niente perché ero bravo a nascondere quindi a chiudermi in me stesso poi per fortuna voglia essere fortuna sfortuna mia madre se ne accorso e se ne accorso quando a catechismo vide per la prima volta atti di bullismo nei miei confronti quindi da lì piano piano mi ha dato una mano ad affrontarlo ma diciamo che è stato mio padre con lo sport con le arti marziali a darmi quella carica per affrontare piano piano il tema del bullismo e sviluppare il mio carattere senti dalla tua esperienza di scrittore è nata anche anzi sta per nascere forse un'associazione me ne vuoi parlare vogliamo spogliarlo però si dai diciamo che tra qualche settimana nascerà questa associazione nella nella zona della miglia romagna e dove anche lì insieme all'associazione combatteremo tutti i tipi di violenza dal bullismo le violenze sulle donne sugli animali però cerchiamo di portare testimonianze aiuto con eventi che possono essere utili ad affrontare questi temi così delicati che possono nuocere a tante persone farne vitime quindi noi con l'associazione cerchiamo di renderci utili ovunque l'associazione si chiamerà l'autore greggio che saresti poi tu dovrei essere io però diciamo sono tutti quelli che sono lì ti va anche un po' ironico come si è ironico però dai perché forse te la ti hanno anche un po' no ti hanno detto adesso che sei diventato scrittore no ti hanno ti hanno detto ti sei montato la testa no montato la testa no però mi hanno detto con tutto quello che hai fatto è giusto che questo appellativo sia per te un sinonimo di incoraggiamento per andare avanti senti per chi lo fa uno un libro come un lavoro quello come come hai fatto tu che va al di là insomma del libro che hai scritto uno non lo fa forse solo per se stesso no io non lo faccio per me stesso lo faccio per aiutare coloro che come me magari ne soffrono ne subiscono e magari non sanno come affrontarlo come superarlo ecco io vorrei essere non un insegnante non un professore ma un amico che magari dà un consiglio perché è più grande perché l'ha vissuto e soprattutto può essere d'aiuto anche con piccole cose ma arginare questo fenomeno e quindi diciamo un amico ecco tua figlia quanti anni ha Cristina? nove anni l'ha fatto ieri compleanno ah ok e dovessi mai scoprire che perché poi il fenomeno del bullismo non è un fenomeno declinato solo al maschile ahimè insomma no? dovessi mai immagino che tu abbia provato già a pensare dovessi capitare di capire che succede un problema del genere a mia figlia come ti muoveresti? sicuramente non è un fenomeno che prende i maschi ma anche le femmine anzi tuttora oggi le femmine sono quelle più bullizzate rispetto ai maschi da dati ufficiali io spero vivamente di non dovermi mettere lì a parlare a spiegare a mia figlia perché vuol dire che mia figlia riesce da sola ad andare avanti ma se un giorno le capitasse di essere bullizzata io la prima cosa che gli direi è di non tenersi tutto dentro di parlarne con insegnanti con amici circondarsi di persone che gli vogliono bene con i genitori perché si affronta il bullismo a testa alta combattendo senza rinchiudersi in un tunnel dove non esci perché in quel tunnel poi vai a sfociare in una depressione in qualcosa che comunque ti può rovinare la vita quindi io gli direi che può confidarsi con noi e può aiutarsi con gli amici con gli insegnanti ma non rimanere chiusi in se stessi c'è una considerazione che tante volte secondo me va fatta il messaggio che deve arrivare anche ai ragazzi che il bullismo in effetti è sempre esistito l'impressione che uno ha in quel momento è che di trovarsi di fronte a qualcuno più bravo più coraggioso più forte che un giorno farà chissà quale strada perché in quel momento è già un capobranco ma non è così insomma poi la vita ci insegna che non è che chi è più prepotente in quel periodo della propria vita poi diventa un numero uno nella vita perché ha imparato a prevaricare sugli altri in quel periodo. La vita poi è altro no? La vita è altro e io mi sono accorto che chi è più potente prima o poi si rende conto di aver sbagliato si rende conto perché magari crescendo impara a sue spese cosa vuol dire essere criticato, essere bullizzato comunque essere preso in giro e si rende conto che magari quello che ha fatto è sbagliato perché tu non solo nuoci agli altri ma nuoci anche te stesso perché ti rendi ridicolo magari agli occhi di altre persone ed è un problema che purtroppo ci portiamo dentro perché il bullo ha dei problemi dietro che possono essere problemi di famiglia, di amicizie, di relazionarsi, di stare con gli altri quindi deve essere aiutato anche il bullo non soltanto la vittima. Certo non guarisce da solo, non migliora da solo, è necessario poi anche da questo punto di vista assolutamente un percorso e oltretutto il bullismo è un problema che negli anni si è anche molto trasformato ormai parliamo di cyberbullismo e anche all'interno del cyberbullismo le cose cambiano e si modificano credo con grande rapidità. Diciamo che il bullismo è un po' come i computer, si modifica sempre di più, adesso dal bullismo siamo passati al cyberbullismo che è ancora più terrificante del bullismo stesso perché basta un click e lo vedono miliardi di persone e non si può cancellare più, la vergogna diventa totale, è ancora peggio del bullismo vero e proprio però purtroppo queste sfere, queste vie del bullismo sono enormi e si modifica sempre di più, la cosa che possiamo fare è cercare di trasmettere a tutti coloro che fanno qualcosa che non si rendono conto che fare cyberbullismo è terrificante, è doloroso e quindi cercare di evitare di farlo magari aiutando coloro che magari sono più deboli. Cristian, il mio viaggio tra le emozioni è la tua seconda opera, il tuo secondo lavoro, stai già lavorando a qualcos'altro? Non spoglieremo però diciamo che nella mia mente ci sarebbe il terzo libro che parla anche questo di bullismo ma con milioni e milioni di sfaccettature e magari vorrei integrare, vorrei mettere dentro tante persone che mi hanno aiutato, magari hanno testimonianze, hanno piacere di essere con loro che magari possono essere utili al prossimo e quindi diciamo che piano piano, adesso a settembre, vediamo di buttare giù un po' idee e sperare di poterlo far uscire nell'anno nuovo, nell'anno 2025. Quindi insomma, chissà, in futuro potremo anche rincontrarci qui a casa Sanremo? Io lo spero, col cuore. Allora, al primo giro a Sanremo era andata malino come caccia ai VIP, ma avevi detto, quest'anno va già un po' meglio. Mi sto abbientando, sì, mi sto abbientando diciamo. Quindi ormai sei un po' di casa, conosci i segreti, Sanremo non ha più segreti. Adesso conosco i segreti, diventa difficile togliermi lì. Mi sa che forse anche tornando a casa, oltre all'aspetto, come dire, legato alla promozione del tuo lavoro e della tua opera, insomma un po' di persone ti avranno chiesto qualche curiosità legata anche al festival, no? Giusto? Certo, mi hanno chiesto, mi raccomando, trovami qualche famoso, chi è che vince, c'è tutte queste cose che fanno parte di Sanremo, ecco. Quindi diciamo che a Ricciole ormai sei diventato tu l'esperto di Sanremo, sei diventato tu. Diciamo di sì, dai, ecco. Va bene, allora chiudiamo con una considerazione legata al festival, cioè ti piace il festival quest'anno? Hai un tuo favorito, hai un tuo cantante che segui? Irama, Irama. Ok, che insomma ti piace come... Sì, mi piace come... cioè mi piacciono tanti cantanti anche a Sanremo, però diciamo che i rama sono quelli che mi danno più voglia di vederli vincere, diciamo perché cantano bene, hanno delle canzoni molto ricchiabili, belle, quindi diciamo spero insomma che possano vincere loro, però vabbè tutti sono bravi, quindi auguro a chiunque partecipi di fare il massimo e il meglio per tutto. Cristian, siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata per chiudere insomma il nostro incontro, riassumendo il tuo libro è un po' complicato perché abbiamo detto che già il libro è una maniera per salutare e ringraziare le persone, però concludendo come potremmo condensare il messaggio che vuoi far arrivare attraverso questo tuo volume? Beh, io prendo una riga del primo libro, rendiamo felici gli altri quando li lasciamo libri di essere ciò che sono. Che mi sembra un messaggio davvero molto bello e che mi sembra importante che possa essere veicolato anche attraverso Casa Sanremo. Certo, certo. Cristian, in bocca al lupo per tutto quanto e a presto. Creep in lupo e grazie ancora per l'invito e grazie a Casa Sanremo.